Lo sai che puoi fare una torta senza farina al profumo di limone che ti accompagnerà a colazione ogni giorno. In una ciotola capiente uniamo tutti gli ingredienti liquidi, quindi l'olio, sto usando 50 grammi di olio di semi, poi aggiungo anche 3 cucchiai di miele, al posto del miele potete usare anche un altro dolcificante se volete, come lo sciroppo d'acero per esempio. Anche lo sciroppo d'agave. Esatto, bravissimo, me lo stavo dimenticando. Che si dice d'agave, agave e non agave, giusto? Io dicevo sempre agave, mi ho sbagliato. Ora grattugio anche la scorza di un limone. Che stiamo a fa' oggi Diana? Oggi prepariamo un dolce sofficissimo, ne approfittiamo perché non fa caldissimissimo oggi e prepariamo un dolce perfetto per la colazione. Ora lo stesso limone lo taglio a metà e andiamo a spremere il succo. Quindi prendiamo un attrezzo come questo oppure un semplice spremi agrumi, poi tolgo i semi dal limone perché non vogliamo che finiscano nella nostra torta e ora spremiamo il succo. Ora aggiungo anche un cucchiaino di estratto di vaniglia e infine aggiungo due uova. Ora mescoliamo bene tutto e ora aggiungo 200 grammi di farina di mandorle. Potete farla in casa anche voi frullando le mandorle finemente, guardate qui che meraviglia, utilizzando un frullatore. Quindi sostanzialmente questa ricetta è senza farina. Bravissimo, anche perché la farina di mandorle non è proprio una vera e propria farina, è semplicemente frutta secca frullata finemente. Ma la frutta secca non è né un cereale né uno pseudo cereale, quindi è vero, è senza farina. Quindi ragazzi, la prima torta senza farina, eccola qua. E ora mescoliamo bene tutto. E ora aggiungo 8 grammi di lievito in polvere per dolci. A questo punto, per rendere un po' più morbido l'impasto, aggiungo anche 2-3 cucchiai d'acqua. Guardate qui che bella consistenza. Io alla fine ho aggiunto 4 cucchiai d'acqua. A questo punto prendo uno stampo da 18 cm di diametro. Io l'ho ricoperto con un foglio di carta da forno e anche spennellato con un velo d'olio. Versiamo il composto all'interno. Diana, sembra che abbia la consistenza di una crema pasticcera. Più o meno, dai. Più o meno. Poi però ne verrà fuori una torta con i fiocchi, vero? Esatto. Mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarla. Livelliamo la superficie con un cucchiaio. Poi decoro con delle mandorle a lamelle. E ora la cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Andiamo. La nostra torta è pronta e c'è un profumo incredibile in tutta la cucina, ma prima di andare ad assaggiarla e soprattutto vederla, lasciate un mi piace a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci come sempre. E vi ricordo che potete trovare tantissime altre ricette sul nostro libro Zero Glutine Zero Rinunce. Se non l'avete ancora acquistato vi lasciamo il link qui sotto nei commenti oppure lo trovate in tutte le librerie. 3, 2, 1... Guarda che bella! Wow, ma che bella! Cioè, è sofficissima, mamma mia! Adesso tagliamo un pezzo? Quasi! Prima dobbiamo preparare una salsina golosissima per metterla sopra. Quindi prendiamo una ciotolina e all'interno mettiamo un paio di cucchiaini di taina, questo non è altro che burro di sesamo. Lo trovate al supermercato, nel reparto etnico. Insomma, taina è quello che si usa solitamente per fare l'hummus. Esatto, bravissimo! Solitamente viene utilizzato, sì. Quindi lo trovate facilmente in tutti i supermercati. Esatto. Poi aggiungo anche due cucchiaini di miele. Poi se per qualche motivo non lo trovate, il burro d'arachidi va comunque bene, vero? Va benissimo, assolutamente, certo. Diamo una mescolata e poi aggiungo anche tre, quattro cucchiaini di acqua per rendere un po' più fluida la nostra salsa. Vi consiglio di usare l'acqua calda o tiepida perché in questo modo il miele si scioglie più facilmente. E ora decoriamo la nostra torta. Wow! No, vabbè, guardate che meraviglia. Wow! Senza farina. Cioè, mamma mia, assaggio, non vedo l'ora. Com'è? Mamma mia, ragazzi, ma si scioglie in bocca. Che buona.